Ciao guerrieri di luce, oggi vi voglio parlare di un seminario che tengo a cui sono particolarmente affezionato. Il seminario in questione è iniziazione alle quattro rivelazioni sciamaniche. Ci tengo a parlare di questo corso proprio perché lo considero veramente importante per tutte le persone che vogliono attuare un processo di evoluzione spirituale, un processo di cambiamento, un cambiamento che può portare nella loro vita a benessere, che può insegnargli a diventare finalmente artefici della loro esistenza. Tutti i percorsi spirituali che io faccio, che insegno, hanno proprio lo scopo di prendere consapevolezza del potere interiore che è dentro ognuno di noi e che è connesso con il grande spirito e che quindi ci può dare la possibilità veramente di diventare i creatori, gli artefici della nostra vita, esattamente come la desideriamo, in linea con il nostro progetto divino. L'iniziazione alle quattro rivelazioni sciamaniche è il percorso che più di tutti riesce a mettere in atto questo processo di trasformazione interiore, proprio perché si va a lavorare molto in profondità a livello individuale e si vanno a risolvere quei blocchi che in qualche modo ci impediscono di superare i nostri limiti e soprattutto di superare le nostre paure. Questo percorso appartiene allo sciamanesimo dei Laika. I Laika sono un gruppo di sciamani delle Ande, dell'Amazzonia, che vengono considerati i guardiani della Terra, proprio perché detentori di un sapere che è in grado di far compiere all'umanità un salto evolutivo. Questa conoscenza fino ad ora è stata tenuta segreta, ma dato che le condizioni dell'umanità e soprattutto del nostro pianeta si stanno man mano aggravando e quindi l'uomo sta via via autodistruggendo se stesso e il pianeta che lo ospita, gli altri sciamani di questo ordine hanno deciso di aprire le porte e di divulgare a più persone possibili queste pratiche spirituali, in modo che l'umanità si risvegli e che possa salvare se stessa e il suo pianeta dalla distruzione. Ricevendo l'iniziazione alle quattro rivelazioni sciamaniche, si impara a entrare in contatto con la forma spirituale di noi stessi. Noi non siamo fatti solo di materia, ma abbiamo anche un corpo luminoso, così come lo definiscono i Laika. Questo corpo luminoso trattiene delle informazioni, delle energie, per cui se abbiamo ricevuto dei traumi o abbiamo subito delle sofferenze, questo corpo luminoso trattiene queste energie e questo ovviamente va a interferire, a influenzare sulla nostra vita di tutti i giorni. Attraverso le pratiche sciamaniche che vengono insegnate in questo seminario, le persone imparano a ripulire, a purificare il proprio corpo luminoso e mettere così in atto un enorme processo di trasformazione e di evoluzione. Secondo i Laika, l'uomo non ha soltanto sette chakra, ma ne ha nove. I primi sette corrispondono a quelli presenti nelle varie tradizioni orientali. L'ottavo chakra è posto sopra la testa circa 50 centimetri ed è il chakra che contiene l'anima della persona. Più in alto c'è un nono chakra che collega tutti gli esseri viventi. È definito anche grande spirito. Riuscire a entrare in contatto con il nono chakra dà veramente la possibilità di riuscire a canalizzare, a materializzare ciò che desideriamo in linea con il nostro progetto divino. Specifico in linea con il nostro progetto divino proprio perché è importante prendere consapevolezza che ognuno di noi ha una missione da compiere. Tutto ciò che ci fa star bene, tutto ciò che ci riempie il cuore è in linea con il nostro progetto divino. Purtroppo però fin dal momento in cui nasciamo subiamo talmente tanti condizionamenti dalla famiglia, dalla società, dagli insegnanti che molto spesso usciamo fuori di strada e quindi perdiamo la connessione con il nostro progetto divino. Questo inevitabilmente ci porta a sofferenza e frustrazione. Fare questo tipo di percorso ci dà la possibilità di ascoltarci profondamente, di riallinearci e capire veramente qual è la nostra missione nel mondo. E una volta che troviamo il nostro centro, una volta che capiamo il motivo della nostra incarnazione, tutto diventa molto semplice e fluido, tutto accade spontaneamente e finalmente abbiamo la possibilità di realizzarci sia come esseri umani ma anche come esseri spirituali. Bene, per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni sul seminario o volesse visionare il programma del corso, vi lascerò in descrizione un link dove è anche possibile iscriversi all'evento. Vi ricordo che ogni mio seminario è a numero chiuso proprio perché ci tengo a garantire a tutti i partecipanti la giusta attenzione. Con questo vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!